Musica We about to turn it on We about to turn it on Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Me l'avete chiesto tanto ed eccolo qua Finalmente vi porto in pesca la mia canna da ultralight casting Infatti andrò a mettere alla prova con il fosfishing e delle bellissime carpe in fosso Dunque ragazzi per vedere anche la penrod in azione contro le carpe superiamo i 140 like a questo video Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E direi via con il video E direi via con il video Prima carpetta a ultralight casting 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 E mi porta facilmente la prima carpetta a ultralight casting E la prima è subito arrivata ad ultralight casting Piccolina però intanto per iniziare a capire non è male Continuiamo a pescare rilasciamola e via vediamo un attimo il calo l'aveva mangiato ce l'ho, ce l'ho, carpettina carpettina on un'altra carpa buona piccolina adatta a questa canna e via la seconda e siamo a due l'esco a forma di cavalletto colorazione naturale è perfetta su questo spot mangiano solo sul naturale ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altra bella carpeta, bella forzutta. No, c'è, è bigliato il guadino. In 5 minuti 3 carpe. Guardate, sarebbe bello provarla anche con qualcosa un pochino più grande e via. Cioè potrebbe essere un video integrale, questa è un pochino più grande rispetto a quella di prima se non sbaglio. Eccola qua, sempre a casting. Ok. Via con il rilascio. Ok. Ok. eccolo qua sto aspettando questa partenza qua andiamo 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 ok questa non è forzata come le altre avete visto? avete visto? guadinata perfetta si è slamata e l'ho guadinata non so come intitolarlo se carpe arafica guadinata boh guadinata epica non so comunque altra carpetta questa è già un po più carina rispetto alle altre eccola qua ha voluto fare tutta da sola bene siamo già quattro carpe bene bene si schina niente troppo grande presa che bella specchi che bella specchi che bella specchi che bella specchi che bellissima carta ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok guardate qua che splendore guardate che bella bellissima bellissima carpa rilasciamola buona tornata in libertà presa presa questa è già più bella questa è già bella in che partita sotto cannella e qua mi sei attorcigliato il filo che bello per scheracasting così ok questo è già più bellino ok vieni di qua vieni da qua qua e mi sapeguadino ok questa è già più bellina mette in difficoltà semmai che la canna lungo uno 018 su se questa combatte di più ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok eccola qua eccola qua questa è già più bella eccola qua eccola qua presa 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 questa è una piccolina questa è proprio piccolina e tiene piccolina facciamola vedere in calma presa eccola qua bella carpotta una dietro l'altra adesso che c'è da guadinarla combatte prima ci faceva portare a spasso come un cagnolino porca troia su 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 via un godino ok un'altra bella carpotta eccola qua liberiamola vai è 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